Abbiamo espresso al Presidente incaricato la nostra soddisfazione per averlo incontrato e soprattutto per aver lui utilizzato il metodo del confronto in un momento così delicato. Abbiamo chiesto che questo non sia un episodio, ma che il metodo del confronto e della concertazione diventasse uno strumento per aiutare questo Paese a ripartire e a ricrescere in questo momento drammatico. Abbiamo sottolineato quello che per noi è un dramma sul quale si deve intervenire subito, quello delle diseguaglianze sociali in questo Paese. Il tema delle diseguaglianze in questo periodo di pandemia si è aggravato, registriamo ancora di più diseguaglianze fra nord e sud, fra uomini e donne, fra giovani e anziani. Per fare questo e per intervenire noi riteniamo che la coesione sociale sia uno strumento importante e per tenere la coesione sociale in questo Paese è necessario che ci siano scelte condivise e che tengano conto che ci sono persone che oggi soffrono e stanno in grande difficoltà. Per questo abbiamo chiesto la proroga del blocco dei licenziamenti, la proroga degli ammortizzatori sociali, facendo riferimento alla necessità di utilizzare il programma europeo SURE. Ed è ovvio che anche sugli altri temi, su fisco, scuola, sanità, abbiamo sottolineato le grandi lacune che abbiamo riscontrato nella sanità pubblica, per esempio, e anche sulla scuola abbiamo dato disponibilità a discutere, tenendo conto che il tema della scuola va affrontato nella complessità delle sue problematiche. Il primo tema della scuola è quello della sicurezza, per gli alunni, per i docenti e per i genitori. Quando ci sarà la disponibilità noi siamo pronti a farlo, così come siamo pronti a farlo sul fisco. Abbiamo ribadito la nostra assoluta indisponibilità a discutere se non di evasione fiscale, di una vergogna nazionale che si chiama ed è nominata per 110 miliardi di evasione fiscale. E anche sulle pensioni e su quota 100 abbiamo ribadito la richiesta di separare la parte dell'assistenza dalla parte della previdenza, cosa sulla quale si è insediata una commissione, ma che ancora non ha dato risultati, nonostante le nostre richieste fatte da molto tempo. Insomma, pensiamo che la situazione delle diseguaglianze, del disagio che abbiamo registrato in questo Paese, sul lavoro, sui giovani che hanno perso il lavoro, sulle donne che sono state sacrificate in questo periodo, debba avere risposte immediate e su questo noi abbiamo dato la nostra disponibilità a lavorare e a collaborare. Chiedendo però al Presidente una cosa in particolare. La tanta fiducia che abbiamo registrato da questi microfoni in questi giorni dentro il Tempio della Democrazia rischia di essere distante da quella che è la vita reale del Paese. Quindi al Presidente abbiamo detto di far tesoro delle richieste che sono state fatte e di far sì che quello che oggi qui si decide e quello di cui oggi qui si discute non sia ancora più distante dal dramma che molti lavoratori, molte lavoratrici, molti giovani e molti anziani stanno attraversando. Buongiorno a tutti. Il primo tema che abbiamo indicato è anche questa novità, il fatto che anche le parti sociali oggi siano coinvolte nella fase di istituzione di un nuovo governo non succedeva da tanto tempo, se mai è successo in passato. Quindi è chiaro che abbiamo sottolineato tutti l'importanza di questo elemento, della responsabilità che questo comporta e della necessità che questo sia anche un segno di come questo confronto debba proseguire nei prossimi settimane, nei prossimi mesi, quando il governo avrà avuto la fiducia per affrontare in modo nuovo i problemi che abbiamo di fronte. Su molte cose avete sentito, pensioni, fisco, lavoro, blocco licenziamenti. Noi abbiamo proposto le stesse cose che in realtà abbiamo già presentato anche a governi precedenti. La nostra proposta della nostra piattaforma sul fisco, così come su tante altre cose, sono riforme che noi abbiamo messo sul tavolo e che chiediamo di essere coinvolti di poter discutere e di poter realizzare. Tanto più che siamo di fronte a questa opportunità senza precedenti di 300 miliardi che possono essere spesi in sei anni e come abbiamo detto tutti, per noi quei miliardi debbono servire non per tornare a prima della pandemia, ma per cambiare, ridisegnare il nostro Paese, per fare quelle riforme che sono necessarie e soprattutto per creare lavoro verso i giovani, verso le donne, verso il mezzogiorno in particolare. E su questo naturalmente abbiamo anche indicato la necessità di una nuova politica industriale. La questione della transizione energetica e della sostenibilità ambientale, cioè gli obiettivi che l'Europa si è data, 2050 via le fonti fossili, entro il 2030 ridurre drasticamente le emissioni, questo comporta delle politiche di investimento e di cambiamento senza precedenti. E quindi su questo tema noi abbiamo rivendicato sia che il Governo svolga una funzione di indirizzo e di intervento diretto e allo stesso tempo oggi gli investimenti non li debbono fare solo i pubblici. C'è bisogno che anche i privati ricomincino ad investire e che quindi ci sia anche un rilancio serio del lavoro e del senso in senso generale. E queste questioni le abbiamo messe sul tavolo. Non ho nulla da aggiungere sul blocco licenziamenti. La posizione che abbiamo espressa è una posizione unitaria ed è questa. E ci auguriamo, visto che lo stesso Professor Draghi ci ha detto che non è che ci ha incontrato solo oggi, ma che questo non significa aprire un confronto, anzi che c'è la disponibilità a un confronto e a un coinvolgimento. Bene, ci aspettiamo che una volta che abbia avuto la fiducia in Parlamento immediatamente questo confronto e questa discussione si sviluppi. Io infine voglio sollevare, aggiungere due questioni a quelle che sono già state dette e che insieme abbiamo posto. Una è tutta la questione della formazione, della scuola e quindi anche di tutti gli investimenti che oggi debbono essere fatti sulla questione dello Stato sociale. Quindi questione di investimenti sulla sanità. Abbiamo posto il problema anche di una legge sulla non autosufficienza e abbiamo detto che il problema della sanità è investire sul territorio. Allo stesso tempo abbiamo detto che c'è bisogno di investire sulla scuola. Il problema non è solo recuperare i ritardi che ci sono, ma mettersi nella condizione di essere pronti a partire, ma c'è un problema di riforma più strutturale della scuola. L'obbligo scolastico a 18 anni, il diritto alla formazione permanente lungo tutto l'arco della vita, cioè è il momento di produrre e di fare sostanzialmente anche questi cambiamenti. E dentro a questo, siccome si parla dei giovani, di dare un futuro ai giovani, abbiamo anche indicato che i giovani sono anche figli di migranti e che quindi se si vuole coesione, se si vuole creare anche un clima diverso, è necessario allora che anche chi nasce qui o chi ha studiato qui abbia gli stessi diritti di cittadinanza di tutti gli altri. Quindi oggi è il momento, se la coesione è un obiettivo, non di farlo parole, ma di praticarlo concretamente per affrontare la situazione difficile che abbiamo sotto gli occhi tutti. Noi ci auguriamo naturalmente che nei prossimi giorni, una volta che il Governo abbia ricevuto, il nuovo Governo sia formato e abbia ricevuto la propria fiducia dal Parlamento, di strutturare un sistema di confronto che sia sugli investimenti europei, sia su queste riforme fondamentali, lavoro, fisco, pensioni, pubblica amministrazione e rilancio degli investimenti, di svolgere il nostro ruolo. Il messaggio che gli abbiamo dato è che noi siamo naturalmente pronti a questo confronto e allo stesso tempo rivendichiamo che il mondo del lavoro, in tutte le sue articolazioni, sia messo nella condizione di essere un protagonista di questo cambiamento. Grazie. Buongiorno. Elisa Saltarelli, prima pagina. In merito a questa interlocuzione che si è creata, lei prima ha detto che è una novità, non era mai accaduto prima che in una fase embrionale le parti sociali venissero così massicciamente coinvolte. In merito al recovery plan, avete chiesto un coinvolgimento specifico nel monitoraggio della spesa in termini di ricadute occupazionali, una sorta di cronoprogramma che consenta di verificare i settori sui quali investire? Sì, allora su questo noi abbiamo chiesto di poter essere coinvolti nella fase di progettazione, cioè noi vorremmo, in passato noi abbiamo avuto la possibilità di un incontro col governo che c'era precedente su un piano generale. Noi adesso abbiamo chiesto di poter essere coinvolti e discutere missione per missione, progetto per progetto, per conoscerlo e capire cosa viene realizzato, perché abbiamo posto che uno dei temi è quanti posti di lavoro si creano, debbano essere scritti, risultati attesi da questi progetti si devono conoscere prima e li vogliamo poter condividere. E quindi deve essere chiaro che quando partono i progetti che vengono presentati a Bruxelles, ogni progetto deve dire quanti posti di lavoro crea, dove li crea, perché li crea, con quale finalità sono realizzati e dentro a quale progetto. E abbiamo anche chiesto di poter strutturare anche una governance, come si chiama, che preveda anche un rapporto e un coinvolgimento anche delle parti sociali nel monitorare che poi quegli obiettivi definiti siano realizzati e perché ci sia anche un elemento di coinvolgimento molto esplicito. Quindi questi sono temi che abbiamo posto. Non abbiamo avuto naturalmente risposte, perché su questo non ci sono state date risposte le nostre posizioni. Ci è stato detto che ci siamo stati ringraziati e poi ci è stato detto che terrà in conto e che c'è la disponibilità a proseguire anche un compronto. Sicuramente il fatto che noi per la prima volta siamo coinvolti in una discussione prima di costruire anche un governo, credo significa anche la fase straordinaria in cui siamo, sia dalla pandemia sia dalla possibilità di avere anche investimenti in questa natura e da un certo punto di vista il messaggio che noi consideriamo importante, ma vogliamo avere gli strumenti per poter anche agire, è che il coinvolgimento delle parti sociali e per quello che ci riguarda del mondo del lavoro è indispensabile per realizzare concretamente questi obiettivi e per monitorare che questo avvenga, a partire anche dall'attivazione dei cantieri. Faccio solo un esempio. Una delle cose che noi abbiamo posto con una certa forza è che per far partire i cantieri c'è bisogno di qualificare le cosiddette stazioni appaltanti e banalmente lì c'è bisogno di fare qualche migliaia di assunzioni, di ingegneri, di architetti, di geometri che siano in grado di essere nella condizione di far partire i cantieri e di creare occupazione. Quindi ci sono anche delle cose immediate che debbono essere fatte e che non sono ancora state fatte ma che sono necessarie per produrre questo cambiamento. Zanchini, Ascanius. Volevo chiedere se il Presidente incaricato ha condiviso la vostra posizione sul fatto che il blocco dei licenziamenti debba esserci fino alla fine dell'emergenza o comunque fino a una riforma degli ammortizzatori sociali e poi se debba essere effettivamente un blocco selettivo come chiede Confindustria oppure riguardare tutte le aziende come chiedete e sollecitate voi. Grazie. Sì, noi sul blocco dei licenziamenti siamo stati assolutamente chiari col Presidente incaricato. Siamo ancora in piena pandemia, siamo in fase di emergenza pandemica. sbloccare i licenziamenti senza aver fatto alcuna riforma degli ammortizzatori sociali e senza aver attivato le politiche attive del lavoro significa centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici che rischiano di diventare disoccupati e disoccupate. Allora per la fase, almeno ancora per la fase dell'emergenza, occorrono sicuramente i sosteni alle imprese ma occorre anche la proroga per il blocco dei licenziamenti e la cassa Covid. Non si tratta di proroghe sine die. Possiamo darci un tempo anche relativamente breve se però viene ben speso e cioè che in quel tempo finalmente si riformino gli armatizzatori sociali e non si lasciano come purtroppo oggi è tanti lavoratori e tanti lavoratrici con meno coperture in alcuni casi con quasi nulla. Quindi la proroga l'abbiamo chiesta, l'abbiamo riconfermato alla nostra posizione di richiesta della proroga. Iniziamo a lavorare subito sugli armatizzatori sociali e sulle politiche attive del lavoro in modo da creare le condizioni perché presto non sia più necessaria. Ma oggi lo è. Siamo noi che oggi siamo stati ascoltati. Il Presidente incaricato ci ha ascoltato. Io spero ci abbia ascoltato bene. Ecco. Poi con le mascherine si vedono solo gli occhi. Amalia Carose, Giornale Radio. Volevo sapere se era stato affrontato in qualche modo da voi o un accenno da parte del Presidente incaricato sul tema del MES? No, il tema del MES non è stato affrontato in modo esplicito, anche se noi abbiamo chiesto unitariamente di investire sulla sanità pubblica. E abbiamo anche detto al Presidente incaricato che secondo noi vanno utilizzati i programmi europei, a cominciare dal programma SURE, facendo anche qui una distinzione perché siccome si parla spesso di debito pubblico, abbiamo provato a ricordare con molta modestia al Professor Draghi che noi ovviamente preferiamo politiche keynesiane che siano in grado di ridurre il debito pubblico. E ovviamente da questo punto di vista, siccome vediamo quali sono i programmi europei, speriamo che lui attraverso l'incarico e attraverso il ruolo che può ricoprire in Europa porti questa richiesta, cioè il superamento definitivo del patto di stabilità e una nuova visione anche degli investimenti in Europa. Quindi è chiaro che per quello che ci riguarda non ne abbiamo parlato direttamente, ma per noi vale sempre la logica di utilizzare tutti i programmi europei, compreso il MES. Francesco Ciaraffo, Public Policy. Torno solo un secondo sulla questione del blocco dei licenziamenti. Volevo capire, non abbiamo capito, sembra che le carte siano rimaste abbastanza coperte, se però vi era arrivato un messaggio di un nuovo confronto prima di una decisione da parte del Presidente Draghi. No, le carte sono rimaste coperte perché in effetti noi parliamo con il Presidente incaricato, le nostre sono chiarissime. Noi abbiamo chiesto la proroga del blocco dei licenziamenti e la proroga degli ammortizzatori sociali. Il Presidente ci ha ascoltato, non si è pronunciato, le posizioni mi pare anche delle altre parti sociali sono chiare. Speriamo, immaginiamo, se questo è il metodo che una volta avuta la fiducia al Parlamento si aprirà una discussione che per quello che ci riguarda parte dal presupposto che il blocco dei licenziamenti e la proroga degli ammortizzatori sociali serve non solo a salvaguardare la coesione sociale, ma a dare la possibilità di avviare un confronto sugli ammortizzatori e sulle politiche attive del lavoro in grado di dare risposte. Fra l'altro il regolamento approvato stamattina dalla Commissione sulla Next Generation ci dice che i soldi da Bruxelles arriveranno, se va bene, a luglio o ad agosto. Quindi noi abbiamo bisogno di tempo per far ripartire gli investimenti e per fare queste riforme.